Papaggio, vuoi che me ne vada? I ragazzi mi hanno detto che tu li fai ridere. Qual è il tuo soprannome? Come ti chiamano? Il simpaticone. Il simpaticone? Questa è una giornata di merda, sono depresso. Raccontami una barzelletta. Adesso? Una barzelletta? Una barzelletta? Sì, ci sono tre persone. Un ispanico, un bianco e un nero. Un negro? Sì, sì. E camminano sulla spiaggia, trovano una lampada, la strofinano, viene fuori il genio e dice che ognuno può esprimere un desiderio. Chiede per primo all'ispanico che cosa vuole. E lui dice, io vorrei che i miei connazionali in America tornassero liberi e felici in Messico. Allora il genio, puff, e i messicani tornano in Messico. Poi chiede al ragazzo nero. Negro. Sì, l'ho detto. Chiede al negro. Chiede tu che vuoi? E il negro risponde. Vorrei che tutti i miei africani, i miei fratelli negri in America tornassero in Africa. Tutti liberi e felici. Ecco, allora il genio, puff, e tutti i negri d'America tornano in Africa. E così, oggi non sono divertente, lo so. È una brutta giornata e questa barzelletta fa cagare. È una barzelletta stupida. Continua a raccontare. Allora il genio dice al bianco, qual è il tuo desiderio? E il bianco risponde, è vero che i negri e gli ispanici sono spariti dall'America? Sì, dice il genio. E il bianco dice, allora voglio una coca. Voglio una coca. Sì, sì. Sì, i negri ispanici sono spariti e lui vuole solo una coca, non ha altri desideri. Raccontamene un'altra. Cosa? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.